guarda questa pedivella è un po' rotta beh ma che però non è messa bene amiche questa è messa proprio peggio come è calza facile ad arrivare al freno pure riesco sai che non va tanto male mi trovo bene no mi trovo bene a guidare più di prima perché ti scappa via il fine no perché si è fatta e ho pronto per fare ya ya beh io vuoi sentire si ahi yeah yeah molto yeah vai ma che cosa stai facendo niente sono fivolato ne aspetto qua se c'è qualche problema torna indietro e non salire ti vedo da capo questo discorso ci sono persone è caduto come un ma non abbiamo capito è caduto alla catena ed è caduto dichiarati quindi non è caduto per imprudenza, imperizia e incapacità c'è stato un problema tecnico un grasso meccanico ha causato la caduta del grande pilota Massimodo ma allora scusa anche Merriman sarebbe caduto è certo ma lui è caduto perché è caduto alla catena prima di lui ma era ovvio non c'è mica meno di spiegarlo lui non cade mai ho capito capito? aspetta che ora deve cercare i due bulloni per una cosa grazie a tutti